Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta settimanale e giornaliera su Fuzimib e Dax. Faccio il punto della situazione perché state e quindi raggruppo tutte le analisi insieme e ne faccio solo una oggi. Allora, abbiamo il T2 mensile, il nuovo, che è partito il 3 agosto, che è stato confermato con un T rialzista. Nel frattempo abbiamo il T3 inverso, che anch'esso è stato confermato di un T1 laterale rialzista per l'inverso stesso. Siamo arrivati al terzo T inverso e siamo arrivati probabilmente alla chiusura, come potete vedere qua, del T settimanale alla decima barra su massimo 11 ed abbiamo qui un hammer, cioè una figura rialzista che potrebbe confermare e dar vita a un 3 tempi per quanto riguarda l'inverso. Quindi, attenzione, potrebbe esserci di nuovo spinta verso l'alto, anche perché il mercato americano sta tirando su come un treno. Questo per quanto riguarda Fuzimib. Inoltre, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Per ora, la spinta di questo T-3 è veramente molto risicata. Ve lo dico perché davvero l'ho vista e per adesso o arrivano degli HFT fattibilissimo e iniziano a spingerci verso l'alto oppure i futures sono catastroficamente vicino allo zero. Oltretutto vi faccio notare che abbiamo la media mobile a 50 periodi che sta provando ad andare in death cross rispetto a quella a 200. Non abbiamo superato neanche il limite inferiore della Kumo. Si rischia, teoricamente, di andare persino a, come si dice, annullare l'hammer stesso. Quindi, soltanto occhio, perché stiamo rimbalzando veramente molto poco. Però vediamo, ripeto, volumi e stimi, arriva un HFT, cambia tutta la situazione, d'accordo? Questo soltanto volevo farvelo vedere come grafico perché è interessante. E vi dice che, appunto, il decimo T-3 ha dato la condizione più che sufficiente per la chiusura del T settimanale e ha fatto potenzialmente partire un qualche cosa di nuovo anche a partire di inverso, ovvero perlomeno un terzo T inverso perché abbiamo un T-2 per ora rialzista. Altra cosa che mi fa, in questo caso, propendere per un po' di discesa dopo l'apertura è il fatto che, comunque, qui siamo arrivati a 35 barre di secondo T-3 inverso e, oltretutto, dopo che andremo in chiusura del primo T-2 inverso, ci sarà spinta verso il basso. Quindi bisogna vedere quanta spinta verso il basso ci sarà e se ci sarà un'accelerazione dovuta al potenziale death cross che stiamo per vedere. Passiamo al DAX. Per quanto riguarda il DAX, situazione molto simile. qui però siamo arrivati a 11 T-3, quindi siamo sulla durata massima. Qui ci potrà essere, effettivamente, della spinta a rialzo o un galleggiamento. Poi è semplice fatto che per far partire perlomeno un T-3 inverso abbiamo già le condizioni. Non ne abbiamo, per ora, per far partire un secondo T-1 inverso. Questo è il primo T-1 bisettimanale, il secondo richiederebbe perlomeno una candela in più sotto questo massimo a 13.075. Ok? E anche in questo caso, attenzione però, a death cross. Per il resto, farò degli aggiornamenti eventuali, se avrò tempo, perché sono in vacanza per il gruppo di persone che mi danno più tempo e avete visto che venne al discorso ho messo i livelli dell'algoritmo per tutti sul canale YouTube. Per cui, se questa analisi vi è piaciuta, mettete un like, sottoscrivete il canale gratuitamente, cliccate sulla campanella per essere avvisati quando ci sarà il prossimo video, viceversa, Sayonara! Arrivederci! Grazie! Grazie! Grazie!